Ciao a tutti e facciamo un esperimento insieme. Questo è un video di meno di 30 secondi col telefono per dire di mettere il like al video e di iscrivervi al canale. Sapete che io non lo faccio mai, così voglio far capitare all'argomento che in questo video ci sono già interessate e voglio vedere cosa succede alle mie solitazioni. Grazie.